allora buonasera a tutti quanti e bentornati su Parabellum e con me Agnese Rossi e Greta Cristini entrambi di Limes raccontateci un po cosa fate cominciate Agnese buonasera a tutti grazie Mirko per averci ospitato e appunto io sono Agnese Rossi e collaboro con Limes da circa un anno insomma un poco meno mi occupo di Francia in generale l'area di riferimento insomma è comunque l'Europa anzi forse già meglio dire l'Europa insomma i paesi europei sempre al plurale e la mia formazione diciamo presente è in campo filosofico e niente penso questo possa abbassare vado io e sì sono Greta Cristini io ho un passato come ex avvocato anticorruzione a New York ho vissuto in America per diverso tempo poi mi sono andata alla geopolitica ho conosciuto Agnese alla scuola di Limes nella sua prima edizione dopodiché ho cominciato a svolgere un po' di lavoro come reporter di guerra in Ucraina quindi ho seguito la la guerra nei primissimi mesi diciamo così da marzo a giugno e e ora anche io collaboro con con la rivista italiana di geopolitica Limes e quindi insomma sono diciamo così ufficialmente una collega di Agnese ecco allora io comincerei direttamente da un argomento che nell'ultime due settimane era diventato abbastanza importante qui chiedono qual è l'argomento sono i rapporti fra Francia America America Francia e entrambi verso la Russia e quindi comincerei da questo argomento qui cioè la crisi energetica in Francia che la potrebbe far vacillare sulle posizioni rispetto alla guerra sì volentieri Mirko beh effettivamente è stato appunto un tema molto molto caldo nelle ultime settimane e soprattutto direttamente collegato eh proprio alla guerra d'Ucraina mh diciamo che eh la Francia in questo senso è mh un caso molto atipico perché eh appunto basandosi mh per il 70% della sua elettricità sul nucleare ehm tendenzialmente appunto questo dovrebbe garantirle eh un'indipendenza energetica rispetto al gas russo a differenza degli altri paesi europei ehm tuttavia a partire dalla scorsa primavera ehm appunto sull'intero territorio francese ehm si sono riscontrati degli arresti dei veri e propri arresti dei reattori eh nucleari dovuti tenete eh a lavori di manutenzione anche ehm a diciamo problemi anche di corrosione degli impianti insomma anche a questione di mala gestione ehm e nel picco della crisi eh ad agosto mh in Francia erano sono rimasti attivi meno della metà dei reattori in tutto sono 56 ehm e ne erano rimasti attivi appunto neanche una trentina quindi eh questo ovviamente ha comportato uno uno stato di allerta molto grande che si è riversato subito ehm anche sulla sulla percezione in qualche modo collettiva dei dei francesi ehm e soprattutto lo stesso Macron come poi il suo esecutivo eh ha adottato subito una ritorica molto allarmistica che è un connotato eh veramente interessante da da analizzare perché da subito ha iniziato a fare riferimento al fatto che la Francia stava entrando in un'economia di guerra eh ha parlato di fine dell'abbondanza fine dell'estate per preparare appunto la popolazione a un'era di di sacrifici in qualche modo eh e nelle ultime settimane si è proprio parlato eh di della possibilità ehm che si verificassero dei blackout programmati proprio in un'ottica di risparmio energetico di sovrietà energetica ehm ora in realtà la situazione sta parzialmente rientrando ehm gradualmente questi reattori sono stati riattivati dopo appunto i lavori di monotenzione ehm tuttavia appunto questo ritmo di ripresa non non sembrerebbe del tutto eh sufficiente a scongiurare questi scenari di interruzione di elettricità è una situazione eh quindi abbastanza diciamo di tensione anche eh quasi psicologica perché il nucleare qui arriviamo al punto eh fondamentale in entrambe le sue declinazioni tanto quella civile appunto per uso energetico quanto quella militare eh nasce proprio per dire un'indipendenza strategica quindi rispetto al fatto che la Francia è l'unica potenza europea eh dotata dell'arma atomica ma anche proprio eh energetica e ehm e prima appunto di questo deterioramento nelle nelle attività delle centrali aveva il tasso di indipendenza energetica in Europa più alto eh rispetto appunto agli altri paesi ehm è una forma di anche quasi shock psicologico per i francesi di riscoprirsi in qualche modo vulnerabili quando erano stati abituati a a pensarsi appunto indipendenti da entrambi questi punti di vista quindi c'è appunto lo shock della invece eh dipendenza a questo punto energetica ha dovuto fare affidamento di nuovo ehm al diciamo al gas ehm ma anche appunto si sente toccata una nazione come la Francia eh dal ritorno della della guerra in Europa che di nuovo minaccia appunto la la sua ehm sicurezza e la sicurezza collettiva ora una prima ondata di di scontento eh è stata palese mh nelle manifestazioni di di ottobre ehm che sono partite proprio dal dall'ambito dei sindacati delle raffinerie e poi però come spesso accade in Francia eh l'ondata si è estesa trasversalmente anche ad altre categorie di lavoratori ehm e questo potrebbe mh proprio anche sicuramente non potrebbe però testimonia in in parte uno scontento una rabbia sociale e una certa insoddisfazione anche per la leadership di Macron che eh sta mh attuando una serie di anche misure controverse ultimamente la riforma delle pensioni è stata molto discussa ehm il punto è che Macron in questo suo secondo mandato mh diciamo si ehm sta sta governando con un esecutivo che in assemblea nazionale ovvero il la la camera più importante del Parlamento francese eh non ha la maggioranza assoluta e questo è un indice di debolezza da eh enorme a livello di consenso eh tanto che per la legge di bilancio del 2023 per fare un esempio è dovuto ricorrere ehm appunto l'assemblea nazionale per farla approvare ad un articolo della costituzione 43.9 eh con cui una legge può passare senza discussioni parlamentare eh un po' decollista no come sistema? Assolutamente assolutamente anche perché eh ovviamente il punto è che se il fronte interno poi eh inizia a scomporsi sarà molto difficile eh anche mh viste queste difficoltà di attuazione delle leggi eh operare nell'ottica di una guerra dove servono ovviamente decisioni rapide e soprattutto un fronte interno compatto. Mh dall'altra parte mi sentirei di dire anche che probabilmente ehm non esiste attualmente una vera e propria alternativa eh a Macron nel senso che le forze che lo circondano non sono eh abbastanza mh in qualche modo incisive no da potersi eh imporre eh d'altra parte e qui poi dopo ci diciamo meglio nessuno dei candidati presidenziali che concorrevano con Macron e che quindi ora fanno opposizione ha manifestato una posizione diversa rispetto alla Russia che è quella ovviamente della eh maggiore apertura fondamentalmente che eh Macron ha ribadito più volte ecco posizioni diverse ovvero un chiaro ehm una chiara chiusura sulla Russia non si sono riscontrate in nessun altro dei candidati quindi su questo probabilmente cambierebbe poco non so se mh Greta vuole aggiungere qualcosa anche introducendo il tema dell'America che eh ma no sì certo volentieri e mh diciamo che vabbè in questi giorni lo sappiamo Biden e Macron si sono visti la posizione interna dei no non so se c'è forse un ritardo sì forse c'è un problema c'è un po' di ritardo vai vai Mirko e ora vediamo se sei ripreso no uno la posizione interna che ha preso ehm i partiti politici antagonisti a Macron se imputano questo alla guerra o alla mala gestione dell'energia e se questo ha anche delle influenze verso di noi noi compriamo energia francese sì eh allora la posizione interna in realtà si ha ha sfruttato anche ovviamente il momento di di debolezza mh che è è evidente il punto è che ehm il la strategia di Macron in questo caso è stata appunto come accennavo alzare molto il livello di allarme ehm e quindi per preparare proprio mh sia diciamo appunto la la popolazione francese sia eh in qualche modo i suoi avversari politici eh all'idea che si sarebbe andato incontro in un periodo molto difficile da questo punto di vista quindi ogni eh risultato eh raggiunto Macron ha potuto capitalizzarlo è proprio di oggi ad esempio la notizia che mh i i consumi di elettricità e di gas sono diminuiti ehm di circa il nove dieci per cento rispetto al mese scorso che era esattamente il limite ehm o comunque la la cifra insomma il tasso che si erano eh imposti appunto al governo francese e in questo senso eh appunto proprio anche la stessa prima ministra Elisabeth Borne ha proprio elogiato gli sforzi collettivi dei francesi eh e la loro disciplina sociale questo sicuramente ha creato in qualche modo un cuscinetto anche di diciamo protettivo anche retorico eh con cui Macron ha potuto tutelarsi rispetto ad eventuali eh anche diciamo scostamenti eh rispetto alla alla traiettoria che si era eh prefissato eh rispetto alla al consenso sulla guerra d'Ucraina in realtà ehm non non c'è molta il dibattito interno che ad esempio vediamo eh negli altri paesi si concentra ad esempio sull'invio di armi e così via ehm in realtà in Francia è relativamente limitato o meglio a fronte di una complessiva ehm diciamo condanna ovviamente della dell'invasione russa e così via ehm la Francia come l'Italia tra l'altro eh ha deciso di almeno per i primi mesi di guerra poi recentemente invece qualcosa ha iniziato a trapelare ha deciso di non rivelare la quantità e e anche la qualità insomma quali armi stavamo andando ehm in Ucraina questo sempre mh risponde a questo al fatto ehm al tentativo insomma di eh non esporsi eccessivamente rispetto anche alla propria opinione pubblica e quindi mh limitare proprio sul nascere eh ogni possibile anche forma di eh di dissenso. Adesso mh in realtà gradualmente poi questa cosa anche suppressione poi di europei eh orientali ma anche della della stessa Ucraina mh è stata gradualmente poi è stato gradualmente svelato il contributo francese alla appunto al alle ehm al conflitto insomma esatto ehm appunto nel nel rispetto alle armi delle armi inviate ehm tra cui anche per quel che ci riguarda un eh sistema di difesa antiaerea che è il Samp-T che appunto viene proprio sviluppato in collaborazione con le industrie eh della difesa italiana e su cui invece la Francia aveva eh opposto molta resistenza inizialmente. Ecco Greta su questo gli americani fanno pressione sui francesi per tenerli in linea con il resto degli europei perché all'inizio erano molto resti io mi ricordo quello che diceva Macron non dobbiamo umiliare la Francia che va andava un po' a riprendere la lezione di Versailles ma è così disinteressato e filantropico diciamo questi suoi annunci o sono legati anche altre cose. No no solo molto franco francese Macron non solo questo filantropico sì è il modo carino insomma anche da un po' da da soft power americano per per dire facciamo i nostri interessi però li vendiamo un po' agli altri come eh come anche un po' interessi loro ecco diciamo così. Ehm ma su su brevemente su questo su questa tua domanda ehm gli americani probabilmente sì avrebbero interesse a a a tenerli come dire allineati però due cose primo ehm se c'è una potenza perlomeno una media potenza che gli americani non riescono a tenere allineata cioè nel senso come dire a su cui imporsi facilmente sono perlomeno in Europa sono ovviamente i francesi oltre ovviamente poi al rapporto di eh fratellanza o cuginanza se vogliamo con con i britannici quindi ecco eh è molto difficile ehm il rapporto tra americani e francesi da questo punto di vista è molto più paritario di quello che gli americani hanno con gli stessi tedeschi e di certo nemmeno parlare eh con con gli italiani e poi dall'altra parte comunque c'è da dire che mh i Stati Uniti non sarebbero nemmeno in grado probabilmente ora di imporre una visione come dire ehm anche eh lineare ai ai francesi perché gli Stati Uniti stessi al momento cioè come dire credo che giochino molto sull'ambiguità che si possono permettere rispetto alla guerra d'Ucraina e quindi anche a eh alla posizione più più diplomatica che magari eh vorrebbe portare avanti eh Macron semplicemente perché è una guerra per gli Stati Uniti poi dopo ne parleremo non non così strategica eh e su cui eh comunque eh gli americani lo vedono lo vediamo anche noi ci sono tante posizioni a partire da eh dai paesi membri della NATO ma lo stesso all'interno dell'Unione Europea su cui gli americani devono fare essenzialmente la quadra prendiamo semplicemente la posizione lo spiegava prima bene Agnese eh dei francesi che magari vedrebbero una una situazione più più diplomatica di di convergenza anche con non gli interessi russi ma comunque manteniamoli un po' vicini a noi non escludiamoli da questa architettura di sicurezza internazionale e poi polacchi che invece sono oltrancisti e che servono tra gli altri agli americani nel senso che ehm gli americani vogliono eh mantenerli tutti dentro e tutti dentro proprio ombrello eh come dire di di alleanza e mh e sicuramente come dire anche per la crisi interna di cui magari ora parliamo eh riescono a farlo in una maniera molto meno persuasiva cioè molto meno come dicevo prima di adozione di una sorta di convincimento ehm ci sono molti meno orpelli diplomatici nel mantenere i paesi ehm tra l'altro potremmo mostrare qua la carta sull'impero sull'anti Europa sull'impero americano in Europa che tratta proprio di questo cioè di questa alleanza fra Nato ed Europa eh che che essenzialmente eh tiene conto di tutti di tutti i paesi che comunque si trovano sotto la sfera di influenza americana eh però dicevo essenzialmente a agli americani adesso secondo me non so se Agnese è d'accordo ma fa gioco anche effettivamente avere queste diverse anime europee che un po' si contendono l'approccio diverso alla Russia e su cui loro proprio appunto forti di di questa anche semplicemente distanza geografica possono permettersi appunto di mantenere con l'ambiguità che li contraddistingue che contraddistingue tutti questi eh questi mesi di guerra eh io credo poi quello che eh direi sul discorso più interno della crisi interna americana una cosa che mi interessava un po' raccontare no del della posizione francese che è abbastanza unica no cioè erano usciti dalla Nato nella fase dei gol eh ben o male comunque tutta la gestione dei gol che è la quarta repubblica francese imponeva comunque un modo di fare che poi altri tipo Mitterrand hanno sfruttato è stato al governo per quattordici anni e anche loro hanno una specie io dico sempre a pensare male eh si fa peccato ma spesso ci si piglia nel senso che da quello che ho visto io ehm i discorsi dei francesi riguardo le sfere di influenza e quindi avere una posizione assai morbida rispetto alla posizione ehm russa che palesemente è un discorso di sfera di influenza lo fanno perché loro hanno mantenuto una sfera di influenza cosa che gli inglesi non sono riusciti a fare anche se lo scopo di Cerce era salvarle l'impero poi alla fine non ci è riuscito i francesi invece l'impero più o meno l'hanno salvato e quindi non so se le loro posizioni sono morbide per un discorso di poi si comincerà a ragionare della nostra di sfera di influenza cosa che loro vogliono eh nascondere che hanno nascosto un pochino sotto il sistema del franco CFA un pochino perché in questo periodo stanno comunque combattendo una battaglia per i cuori ma anche per le risorse eh degli stati africani sia con i russi sia con i francesi quindi secondo te c'è anche questo discorso nel mezzo? Sì allora intanto qui mi sembra che entriamo proprio nel vivo perché già come accennava Greta e come giustamente hai ribadito tu mh dai già dai vostri discorsi mi sembra ehm che sia evidente che la Francia appunto eccezione in campo europeo è proprio una una potenza convinta di essere tale e è proprio in questo che assomiglia agli Stati Uniti cioè l'antiamericanismo francese in qualche modo va inquadrato proprio a partire da questa anche comunanza ehm di fatto eh la la Francia è l'unica potenza d'Europa che non ha rinunciato alle proprie eh ambizioni mh diciamo di di proiezione e di potenza per l'appunto ehm e in un certo senso dismesso l'impero coloniale ha continuato a coltivarlo in in modi diversi cioè da una parte ricavandosi fondamentalmente un feudo eh in Europa che tra l'altro è probabilmente coincide almeno nell'idea della Francia con l'Europa stessa eh di qui l'europeismo un po' strumentale francese per cui appunto l'Europa eh è fondamentalmente un moltiplicatore di differenza. D'altra parte ehm formalmente non ha più delle colonie tuttavia continua ad essere presente eh in Africa appunto nella fattispecie lo vediamo eh in questa carta eh in modi eh più sfumati eh sia in senso materiale che immateriale in senso materiale con delle truppe cioè non è che si sia eh ritirata eh militarmente o meglio eh in in realtà qualche ritiro c'è stato clamoroso quello del Mali e adesso mh si diciamo sta ripiegando più verso il Niger ma anche eh con il recente colpo di stato in Burkina Faso insomma ehm diciamo sembra un po' scontare eh la lo smacco anche di di questa obsolescenza della sua presenza ehm in questi stati africani. Dall'altra parte mh proprio in virtù anche di questo sentimento fortissimo sentimento antifrancese nel Sahel principalmente eh la Francia ha capito che deve rimodulare il il suo modo di abitare queste queste zone con la premessa che fondamentalmente dall'Africa eh sicuramente non non vuole andar via eh questo torna un po' nel discorso che facevi sulle sfere di influenza cioè la la profondità strategica che che la Francia eh appunto ha in Africa è semplicemente essenziale sia a livello ehm appunto simbolico che a livello quasi identitario perché eh di fatto coincide proprio con una parte di storia francese molto eh importante per lo sviluppo della costruzione identitaria eh della stessa Francia. Ehm in questo caso quindi rimodulare il proprio la propria la propria presenza eh in questi territori eh vuol dire in esercitare un'influenza anche mh culturale in qualche modo un'egemonia culturale uno dei vettori ehm principali maggiori della della proiezione di potenza della Francia nel mondo e anche è proprio la francofonia eh la francofonia è una formalmente anche proprio una un'organizzazione eh che è stata definita addirittura una piccola ONU eh perché deve proporsi come alternativa alla globalizzazione americana e qui ritorniamo nel discorso della competizione fra due universalismi cioè eh la Francia stessa ha un'idea di sé talmente alta che eh anche quando deve abbandonare appunto magari ehm ritirando le truppe dei territori come quelli africani ehm continuano ad esercitarvi una una forma di eh egemonia immateriale attraverso ad esempio la l'organizzazione della francofonia che di fatto altrimenti è eh che la difesa non tanto della lingua ma di di un'eccezione eh culturale con cui la Francia proprio continua a mantenere un impero informale dopo aver dismesso quello coloniale ehm e questa mh questa impostazione naturalmente è il principale del conflitto ehm o meglio del conflitto dell'amore e odio anche proprio che c'è tra Francia e America ehm questo questo legame appunto così anche particolare eh risale proprio eh anche storicamente eh molto indietro mh possiamo pensare anche solo ai fenomeni costitutivi delle due di queste due di questi due paesi per come li conosciamo adesso i fenomeni fondativi che sono eh rispettivamente la rivoluzione francese e la rivoluzione americana ehm nella rivoluzione americana o guerra di indipendenza del 1776 ehm la Francia dà innanzitutto un contributo fondamentale ma eh soprattutto mh è proprio in quegli anni pochi anni dopo nel 1789 ovviamente che eh si sviluppa a a sua volta un'altra rivoluzione appunto quella francese ed è in questo momento preciso che nascono i rispettivi universalismi cioè se vediamo ad esempio la dichiarazione di indipendenza americana e la compariamo con la dichiarazione di diritti dell'uomo eh di diritti dell'uomo e del cittadino francese vedremo che in qualche modo sono figlie proprio di una stessa cultura di una stessa ehm appunto identità ehm culturale europea che è quella fondata sui valori dell'illuminismo eh ed è quella che poi in qualche modo ehm fonderà tutta la tradizione anche dei dei diritti umani ad esempio che tanto la Francia quanto l'America ovviamente rivendicano eh la differenza è che in qualche modo la rivoluzione francese poi diventa il prototipo della rivoluzione destinata a fallire che viene divorata dai suoi figli come si dice eh spesso mentre la rivoluzione americana è la rivoluzione che di fatto sopravvive e anzi in qualche modo invera le le proprie premesse costituendo eh e costruendo quel modello di libertà a cui poi tutto l'occidente si dovrà successivamente rifare questo sempre ovviamente nella eh narrazione americana ehm e anche perché i periodi in cui Francia e America si sono veramente trovati in crisi sono si conta un suo dito di una mano monca cioè uno è praticamente l'intervento francese in messico che volevano forse riconoscere i confederati quello è uno è uno dei casi in cui hanno avuto degli attriti e l'altro è con la Francia di Vichy e più recentemente praticamente la guerra nel golfo questi sono stati i massimi attriti tra tra i due paesi esatto esatto e appunto non sono i due paesi non sono messi in guerra cioè è un dato fondamentale nel rapporto fra due collettività cioè non avere avuto dei anche dei eh versamenti di sangue a causa dell'altra potenza eh insomma della ah sì in questo caso della Francia per l'America e viceversa eh condiziona profondamente i rapporti che poi si vanno ad intestere eh frizione che c'è tra queste due eh tra questi due di fatto universalismi è proprio dovuta alla loro eh eccessiva somiglianza forse potremmo dire Sarkozy per esempio che tra l'altro è un presidente francese abbastanza atipico però Sarkozy eh con una battuta di spirito insomma diceva che mh questi due paesi sono separati da valori comuni e a me sembra mh molto diciamo un quadro molto chiaro della del rapporto che c'è eh d'altra parte mh è ehm alla alla e questo poi magari ehm me lo confermerà o meno Greta però ehm anche proprio questa forma di opposizione è ehm è fondamentale questa forma di opposizione che la Francia coltiva rispetto all'America è fondamentale per gli Stati Uniti stessi perché eh in qualche modo la Francia è il solo paese in grado di proporre una strategia eh originale di fronte alle difficoltà europee quindi in qualche modo di intestarsi ehm la la guida no del del continente eh e questo in questo momento specifico probabilmente in parte alla l'America stessa fa comodo eh in un momento in cui mh la 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 postura americana è un po' oscillante come già diceva Greta da una parte hanno bisogno degli europei orientali come la Polonia perché garantiscono il contenimento della Russia d'altra parte però probabilmente eh sia anche arrivati a un momento eh del conflitto in cui gli Stati Uniti vorrebbero anche eh parzialmente almeno appaltare in qualche modo la gestione della sicurezza europea agli europei eh ovvero spostarsi dal dal teatro europeo come già avevano iniziato a fare prima della guerra d'Ucraina per concentrarsi sulle mh vere priorità strategiche che sono nel versante Indo-Pacifico eh famoso pivot to Asia esatto esatto la Francia in questo senso eh offre una possibilità offre in qualche modo una sponda eh agli Stati Uniti naturalmente nei limiti eh di autonomia che le sono concessi che sono sempre ovviamente meno di quelli che vorrebbe eh però fondamentalmente in questo specifico eh contesto potrebbe eh questo questo intestarsi in qualche modo anche l'Europa eh tipica postura francese potrebbe tornare comodo agli Stati Uniti e ehm l'incontro tra Macron e Biden dello dello scorso d'inizio di questo mese eh va probabilmente proprio in questa direzione a mio avviso mh è la prima visita tra l'altro è la prima visita di Stato ehm ospitata da dal presidente Biden ehm e si sono mh profusi in fondamentalmente appunto abbracci eh pacchi sulle spalle e così via ovviamente la competizione quindi non vuol dire che sia estinta è impossibile che si estingua eh per definizione proprio una competizione fra due universalismi ma in questo contesto specifico probabilmente sono più disposti a trovare degli accordi sui disaccordi. Allora qui volevo chiedere una cosa al netto delle diciamo intemperanze francesi che gli viene comunque concesso anche di fare una specie di postcolonialismo nonostante gli americani storicamente siano anticolonialisti per definizione sia perché si sono liberati nel colonialismo sia perché il punto di attrito maggiore che avevano con l'Inghilterra e con Cercie era proprio sul colonialismo mentre i cuginetti francesi anche se loro si considerano al contrario americani cuginetti ehm gli è permesso di fare un po' più di quello che non possono fare altri. I problemi interni americani quanto minano questi rapporti è una questione solamente interna perché vedremo che in questa guerra gli ucraini hanno l'orecchio bene aperto rispetto alle questioni interne all'America. Certo assolutamente non soltanto gli ucraini in realtà probabilmente possiamo anche dire dopo qualche mese di guerra che se eh se il presidente russo Vladimir Putin non avesse percepito la debolezza eh dell'America in generale il momento di crisi che stava vivendo il popolo americano e quindi anche l'indisponibilità a mandare soldati americani quindi andare a morire eh dopo abbiamo già visto eh il ritiro delle truppe da dall'Afghanistan ecco però se se Putin non avesse percepito già questa indisponibilità americana per una propria crisi interna negli Stati Uniti probabilmente questa questa invasione non sarebbe nemmeno avvenuta questo credo che possiamo vedere con una certa quindi scusa Greta tu condividi la lettura che Putin ha visto il ritiro dell'Afghanistan come un sintomo di debolezza e quindi potevano approfittare della situazione. Allora non cioè gli americani hanno hanno scelto eh volutamente scientemente di andarsene dal dall'Afghanistan perché eh da una decina d'anni a questa parte e sono in una fase di progressivo progressiva come dire ridefinizione del canone americano e quindi essenzialmente devono guardarsi di più l'ombelico e perciò hanno capito che eh insomma eh dopo eh le come dire le avventure di Bush figlio eh tra Iraq e Afghanistan non era quella una guerra strategica eh e quindi è meglio tornarcene a casa anche perché ad esempio le forze armate stanno vivendo attualmente un momento non di crisi ma mh se vogliamo comunque ci sono degli avvisaglie di una sorta di sfiducia che gli stessi soldati americani hanno al proprio interno sulle responsabilità che hanno. I soldati americani in questo momento sentono una grande responsabilità per ehm appunto per essenzialmente essere il gendarme del del mondo e eh il ritiro dall'Afghanistan ad esempio palesava questa eh questa fatica no? La chiamiamo all'IMES la cosiddetta fatica o stanchezza imperiale però ad esempio le il fatto di eh comprendere che le forze armate che rappresentano un caposaldo del canone americano intesa come potenza anche violenta se vogliamo ehm questa sfiducia eh questo peso questo fardello insomma che che avvertono è eh una red flag se vogliamo perché ci dà il senso eh di qualcosa che sta cambiando nel 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 popolo americano per lo meno che deve ancora trovare un un nuovo equilibrio ecco diciamola così cioè la crisi interna americana ora non deve essere considerata come una crisi terminale che necessariamente porterà al declino e dell'America a quanto potenza egemone e magari appunto quindi all'ascesa della Cina non si parla ancora di questo cioè non abbiamo ancora i dati e le informazioni sufficienti per poter parlare di una crisi terminale però di certo quello che sta avvenendo e eh e lo vediamo appunto da da questa prima carta che mostra eh la spaccatura eh in termini di polarizzazione politica che di cui abbiamo avuto eh informazioni a partire dal dal 2020 però questa ad esempio è ancora più netta dell'era Trump secondo te o ha definito uno standard? Allora diciamo che ehm Trump come dire ha eh palesato e ha manifestato eh questa spaccatura cioè la portata al piano massimo diciamo così attraverso quindi come dire la eh il fatto che il partito repubblicano ha partorito eh un candidato estremamente polarizzante e quindi non soltanto controverso ma mh come dire radicale eh diciamo così anche esteriormente però eh Trump non è stato altro che il prodotto in realtà di questa eh crisi latente che ora in realtà al 2022 quindi soltanto due anni dopo si è eh andata ancora di più aggravando e in questo caso possiamo forse mostrare la la seconda carta che ci parla delle reali faglie americane perché essenzialmente quello che ci mostra questa prima carta è la polarizzazione politica però in realtà gli gli americani storicamente non non si interessano granché alla politica anzi la considerano la guardano l'hanno sempre guardata storicamente come ehm con una sorta di diffidenza anche perché lo ricordavi tu prima ehm come dire gli Stati Uniti nascono eh dalla eh voglia di indipendenza se vogliamo ehm che li portasse fuori insomma dalla dai soprusi e eh dall'obbedienza a a una monarchia quindi il rapporto con con l'autorità con l'imposizione è un rapporto esplicitamente molto molto problematico per per un americano e di base e lo scrive benissimo ovviamente il il direttore Caracciano nell'ultimo numero di Limes eh per capire l'America bisogna capire innanzitutto che la collettività americana si bada sulla singolarità cioè sulla libertà dell'individuo se non capiamo questo non non capiamo nemmeno il perché ad esempio questa carta mostra eh e fa riferimento a le due faglie più importanti per lo meno adesso in America che attengono a delle questioni puramente eh di libertà dell'individuo ossia l'aborto e le armi e e quali questioni più per noi anche forse davvero difficile da 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 capirlo e da coglierlo a pieno perché sì ne parliamo certo della politica sull'aborto così come però mh ecco già sulle armi siamo eh in una situazione molto interessante vedere la mappa nel senso che più il pensiero è retrogado guarda caso più possiedono armi c'è la parte sud del paese no tu vedi anche questo problema storico cioè io spesso ho fatto una lettura di questo tipo il problema interno americano dal punto di vista storico è che agli sconfitti venne permesso di raccontare praticamente la loro storia e celebrare anche i loro miti anche al netto della sconfitta anche ideologica e quindi oggi si ritrovano a dover ripensare cosa sono e come è finita la guerra civile americana eh a 150 anni quindi c'è questo problema qui c'è una parte di paese che è convinto che quelle radici erano giuste c'è una parte di paese invece che è convinto altrimenti e non sono mai non ha mai fatto un processo per dire di analisi interna a ognuno è stato permesso di raccontare come come gli pareva queste cose ora non voglio rubare non voglio rubare le frasi no a Dario Fabri o a Caracciolo però un paese che ha problemi interni deve prima ricompattarsi prima di fare delle sfide magari come con la Cina questo è vero però eh possiamo anche dire che gli Stati Uniti non sono un paese come tutto tutto il resto cioè non possiamo applicare a agli americani ehm eh gli stessi codici che che possiamo applicare magari ad altri paesi questo non va fatto per nessun paese però in generale ehm anche appunto perché come dicevi bene tu studiando la storia ma cioè gli Stati Uniti in realtà cioè la Costituzione di Filadelfia arriva dieci anni dopo gli articoli della Confederazione in cui le 13 colonie si sono fatti stati separate e divisi con le proprie regole di autogoverno nel senso eh nella storia americana in realtà gli stati precedono lo stato centrale di Washington e questo in realtà è un mantra se vogliamo leitmotiv che eh accompagnato sempre le varie fasi della della delle varie crisi americane io nell'ultimo libro di lì beh di lì mi scrivo proprio di questa faglia di questa lotta di potere interna fra il potere centrale di Washington e quindi le istituzioni del congresso della presidenza americana e anche della stessa corte suprema che eh normalmente è la veramente l'istituzione massima che fino a poco tempo fa fino agli ultimi anni godeva ancora di una certa legittimazione e credibilità da parte del popolo americano e che invece anche adesso sta perdendo perché anche la corte suprema americana è vista come una istituzione comunque polarizzata e lo sappiamo Trump ha avuto la possibilità di inserire tre giudici conservatori quindi ha spostato il baricentro eh dalla parte degli originalisti e e dei conservatori dei per quel che riguarda i giudici della corte suprema però in generale c'è proprio una eh lotta di eh potere eh enorme fra gli stati che vogliono riottenere maggiore prerogative e il potere centrale di Washington. E questo di nuovo per il fatto che storicamente eh il popolo americano dà sempre maggiore legittimità ha il potere locale diciamo così perché come ho detto prima già ha un problema di ehm già sicuramente nel compromesso eh di Philadelphia ancora prima ecco insomma il popolo americano ha dovuto eh mordersi la lingua per decidere appunto comunque di eh affidare l'autorità e in generale le la la possibilità il potere in qualche modo di eh controllare la forza in generale di eh di di regolare lo stare insieme civile a un'autorità però ecco adesso che ehm in realtà eh l'America sta anche ridefinendo proprio cioè il popolo americano sta effettivamente ridefinendo che cosa significa essere un vero americano quindi tutte le questioni come dicevo prima che più attengono la libertà dell'individuo e quindi l'incolumità fisica che che libertà ho io di decidere di disporre del mio corpo questioni assolutamente personali ma tutte americane proprio per per questo perché la politica in America è stata creata come con questi precetti più o meno deve essere il più marginale possibile cioè non deve tanto rompere le scatole essenzialmente al alla vita del singolo e deve ed è funzionale nella misura in cui assicura la difesa di questa libertà e quindi ora che in questi ultimi anni il popolo americano ha notato diciamo così ha osservato un'ingerenza un'invadenza eccessiva dal proprio punto di vista eh dello Stato centrale di Washington nel disciplinare lo stare insieme quindi la vita del del singolo cittadino e se vogliamo ad esempio la corte la decisione sulla corte ehm della corte suprema su eh di Dobbs quindi quella che eh in qualche modo eh ha eh annullato Roe Wade e quindi il diritto costituzionale a livello nazionale quindi a livello centrale eh all'aborto non fa altro che questo cioè non è tanto un discorso è come ho già detto prima un discorso su la libertà dell'individuo e quindi è una questione estremamente delicata ma essenzialmente la corte ha detto mh non esiste questo diritto al potere a livello centrale io do agli stati il potere di eh decidere se questo come regolare o meno questa questo questo affare esclusivamente io ho degli amici texani si considerano texani prima che americani sì c'è un attaccamento al proprio stato superiore alla federazione assolutamente assolutamente il Texas è uno stato da questo punto di vista emblematico prototipo come potrebbe essere dalla parte opposta alla California che invece è uno stato che sta diventando sempre più blu cioè sta adottando delle politiche sempre più progressive e questo si sta 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 creando una forte radicalizzazione anche di semplicemente a livello di mobilità interna ad esempio cioè storicamente ehm gli americani lo sappiamo e ve lo posso testimoniare quando quando sono stata lì avevo un sacco di amici americani che non avevano nemmeno il passaporto perché non andavano fuori dall'Europa però al contrario avevano queste queste enormi terre quindi si muovevano tantissimo internamente quindi cambiavano velocemente residenza ora dagli anni 90 in poi non sta succedendo nemmeno più questo cioè sono sempre milioni di milioni di persone che si muovono internamente però c'è un calo anche piuttosto ripido di questa mobilità interna e questo ovviamente è questo è veramente un segnale di allarme perché comunque gli americani si si basano cioè l'idea nazionale americana si bada anche proprio sulla dinamicità sulla vivacità che vediamo nella tecnologia lo vediamo nell'imprenditoria quindi nell'intraprendenza se vogliamo americana e sia l'idea appunto che cominciano a fermarsi in qualche modo quindi a no lo sappiamo cambiando città cambiando paese modifichiamo e ampliamo anche il nostro le nostre idee cambiamo idea magari ecco non facendole quindi radicalizzandoci anche nel posto in cui viviamo perlomeno questo sta succedendo agli americani il rischio proprio che in qualche modo gli stati abbiano la sensazione e il texas già la storicamente cioè il texas si sente più americano degli altri essenzialmente cioè ha una sorta di disprezzo nei confronti degli altri stati perché non pensa non è che pensa che non siano non pensa che il texas sia uno stato diverso che non sia americano pensa che il texas sia più americano degli altri quindi un po' che vinse la guerra ecco e quindi sì hanno questa cosa capito un po' dello stato forte long star state questa dicotomia interna è anche il motivo per cui le politiche americane spesso cambiano così tanto o perché certi ambienti americani ogni tanto riescono ad avere il sopravvento anche se magari la linea di pensiero generale è un'altra io per esempio racconto spesso questo aneddoto che poi una storia vera so se qualcuno ha mai visto il film charlie wars la guerra di charlie dove un senatore del texas che gestiva un sottocomitato per i fondi era riuscito a portare i fondi al sostegno dei degli afghani da 5 milioni a un miliardo e presidente non sapeva nulla quindi anche quando si guarda l'america non bisogna mai guardarla come un tutt'uno come differenze interne creano praticamente un idra sì sì e tanto più appunto poi lo vediamo adesso è più facile cioè le differenze sono dal punto di vista abbiamo detto di queste questioni ma sono anche dal punto di vista semplicemente delle del corpo dell'america proprio a livello fisico le aree urbane solitamente quindi le grandi metropoli tendono a votare democratico e quindi ad avere delle visioni più progressiste mentre invece le aree rurali hanno più una visione come dire conservatrice tradizionale della dell'america anche la stessa religione adesso in crisi cioè gli americani che si sentono sono una popolazione estremamente religiosa perché vedono nella nella disciplina se vogliamo anche religiosa cioè nel pensarsi religiosi quindi nell'idea di pensarsi anche ecumenici se vogliamo universali trascendenti trovavano anche la legittimazione del proprio della propria potenza in qualche modo quando si parla di religione in america si parla di america si parla comunque di un popolo che si considera eletto da dio no è il popolo della città sulla collina ecco ad esempio negli ultimi anni la religione cioè la religiosità dell'americano è in calo nel senso che le persone che aderiscono a una religione una fede piuttosto che un'altra non arrivano al 50 per cento ad esempio quindi questo ad esempio un altro è un altro è un'altra faglia importantissima quello che credo che sia importante per quel che ci riguarda a noi come italiani in generale come parte della sfera di influenza se vogliamo americana in quanto europei è il fatto che come accennavo prima questa crisi interna spinge gli americani a guardarsi molto di più l'ombelico ad essere più introvertiti e quindi questo ci lascia degli spazi di manovra se vogliamo di opportunità anche per in qualche modo come dire essere provare ad essere meno accondiscendenti e magari fare qualche richiesta in più pur consapevoli dall'altra parte questo è il contraltare diciamo così che proprio per questa indisponibilità in realtà lanciarsi al mondo come hanno fatto finora gli americani tendono anche ad avere un approccio molto più impositivo rispetto a agli alleati quando gli serve qualcosa cioè di base vogliono disinteressarsi delle magagne degli affari del mondo lo vediamo comunque anche dalla perlomeno preliminare come dire all'inizio indisponibilità degli americani nell'assistere gli ucraini hanno cominciato ad assistere gli ucraini quando hanno visto che gli ucraini sapevano combattere e lì i dubbi ce l'avevano un po' tutti eh cioè tutti davano scontato nei giro di tre settimane sarebbe finito poi c'è un discorso più profondo sul pericolo che certo equipaggiamento finisca in in mano russo quindi un po' tutti hanno tirato il freno a mano poi dopo quel tempo si è visto che ce la facevano ovviamente poi probabilmente potremmo dire pure che dal 2012 al 2014 gli britannici gli americani mi hanno fatto una buona opera di addestramento di quegli ucraini che comunque poi tra l'altro stavano combattendo nel Donbass perlomeno quando sono stata in Ucraina ho intervistato l'addetto stampa eh che era un militare al governatore del governatorato insomma di di Odessa mi diceva proprio eh cioè loro non i russi non hanno capito che comunque noi stiamo è da otto anni che stiamo facendo addestramento comunque avevano almeno tipo diverse centinaia di migliaia di soldati che avevano già fatto addestramento perché facevano i turni di sei mesi nel Donbass essenzialmente poi tornavano a casa vabbè questo è per dire insomma come ehm ecco se c'è questo disinteresse di base eh poi ovviamente di fronte a questioni come eh la guerra in Ucraina che comunque resta una situazione non strategica per per l'America altrimenti avremmo già visto i soldati americani eh stanziati disbrigati a partire forse da dalle basi nostre europee però di base c'è anche questa ehm sorta di volontà eh quando serve qualcosa agli americani di imporsi con maggiore mh di nuovo cioè il soft power diciamola con una battuta sta diventando sempre più hard power nel senso non tanto di utilizzazione di utilizzo di provvedimenti legislativi ma quando c'è da fare una cosa i Stati Uniti cioè non non la prendono più come dire con con le buone diciamo così non ti intavolano più eh colorpello diplomatico quello che devi fare lo devi fare basta perché altrimenti sono insomma sono problemi ecco è proprio lì credo la difficoltà degli americani ad avere a che fare con i francesi perché i francesi hanno comunque un po' l'illusione di grandeur un po' hanno da difendere insomma quello che è rimasto del loro colonialismo un po' abbiamo visto una delle posizioni morbide proprio sui francesi perché secondo me temo come si diceva prima che se le sfere di influenza non valgono per i russi finita questa storia magari l'Europa andrà a concentrarsi anche sulla loro di sfera di influenza che credo l'ultimo stato europeo che ha una sfera di influenza eh abbastanza pesante al di fuori dell'Europa e quindi i rapporti fra Francia e America nonostante l'America magari vorrebbe che la Francia diventasse uno dei paesi che si incamera di più la battaglia con l'Ucraina anche perché è uno dei eserciti più validi in Europa Germania non ha praticamente niente e quindi questi rapporti qui sono sono molto difficili tra Francia e America rispetto alla Russia cioè è una domanda per tutte e due facciamo parlare eh Agnese poi di nuovo eh Greta come ci si muove in questo ambito tra due potenze che teoricamente almeno da parte della Francia vorrebbero considerarsi alla pari ma poi c'è l'America che spinge la Francia per fare qualcosa che non mi sembra che sia così incline a fare al cento per cento. Certo e questo è il punto fondamentale nel senso che eh appunto come già accennavo prima mh la posizione di apertura della Francia alla Russia poi possiamo mh discutere in quali termini quanto fino a che punto però la posizione di apertura non è seriamente messa in discussione da nessun altro leader francese mh né eh appunto adesso tra questi appunto dell'opposizione eh né però storicamente cioè è una è una forma di di continuità strategica che è veramente difficile da da rinvenire no anche mh rispetto ad altri casi eh non è un vezzo di di Macron mh questo di non umiliare la Russia non umiliare Putin mantenere aperto il dialogo eh ed è questo il il punto di frizione fondamentale con l'America in questa carta eh che è l'Occidente visto dagli Stati Uniti c'è un'altra di carta di Limes di di Laura Canale lo ricordiamo c'è un'altra che è l'Occidente visto dalla Francia che cambia esattamente solo per una cosa ovvero la Russia ehm che è in colorata un po' di di una sfumatura diversa però appunto mh la Francia tende a vedere l'Occidente eh come l'America entrambi tra l'altro si intestano in qualche modo la eh la paternità un po' di questa eh creazione ehm diciamo ideologica che è l'Occidente se non fosse per eh questo punto qui cioè è appunto la la federazione russa ehm perché i francesi poi mh fanno tutta questa resistenza mh il punto è che ehm per per i francesi si tratta innanzitutto adesso di eh mantenere la propria sfera di autonomia in Europa ed è questa appunto anche una una strategia proprio di lungo periodo perché ehm la Francia trae potenza oltre che prima dal suo impero coloniale adesso eh in qualche modo in questo tipo di ripiegamento poi di fa trae potenza dal mh dominare in qualche modo gli equilibri ehm europei e eh fondamentalmente mh ha interesse a a che non ci sia un un Europa troppo americana perché un Europa troppo americano come quella che eh poi sempre di più è stata da da dalla fine della seconda guerra mondiale gradualmente poi anche con la guerra fredda ehm è un'Europa in cui la Francia ha meno margine di manovra è un'Europa più dipendente quindi all'America per eh la propria sicurezza eh lo vediamo plasticamente adesso cioè Macron ovviamente eh proprio in quest'ottica dichiarava qualche anno fa la la morte cerebrale della Nato ma eh è evidente che invece al ritorno di una guerra in Europa l'ombrello segretario statunitense è semplicemente rinunciabile ma perché eh di fatto dopo il diciamo la guerra civile che sono state le due guerre mondiali in Europa ehm dove i paesi europei hanno effettivamente rinunciato a difendersi soli e sono affidati agli Stati Uniti questo ovviamente non fa eh il gioco della Francia che proprio per i motivi storici che abbiamo è anche ripercorso fino adesso non è disposta a eh diciamo immaginarsi come ehm diciamo parte di un protettorato americano come membro fra gli altri dei paesi europei il dramma della Francia è proprio eh la sua ossessione diciamo è quella della della paura di essere normale no? Di essere un paese fra gli altri e non può esserlo neanche in campo europeo. La Russia in questo meeting eh che è del duemiladiciannove Macron si vede con Putin e le dice anche voi siete euro cioè la visione francese era quella. Certo certo infatti il punto è proprio questo la la Russia eh in qualche modo deve essere ricompresa in questa architettura di di sicurezza europea ehm innanzitutto per controbilanciare lo strapotere americano eh mentalmente se diciamo la 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 l'Europa si estendesse eh dal dall'Atlantico agli Urali riprendendo sempre appunto la poi la l'espressione eh fortunatissima di De Gaulle ehm la Francia potrebbe effettivamente costituirsi come testa di ponte in qualche modo dei paesi europei ehm a capo di uno schieramento con una qualche forma sostanziale di indipendenza cioè questa è in qualche modo la la strategia eh e la il modo in in cui la Francia si percepisce eh anche in maniera ovviamente prescrittiva cioè adesso non ci sono le le premesse affinché eh niente di tutto questo accada ma eh a fronte di una guerra di aggressione come questa ehm condannare ovviamente l'invasione russa è è quello che poi le le viene richiesto e anche quello che probabilmente eh anche intimamente sente ma non può rinunciare all'idea che in un futuro appunto a guerra eh fondamentalmente si torni a parlare con la Russia a trattare se si toglie la Russia dall dall'equazione di sicurezza europea non ci sarà più alcun paese a controbilanciare l'influenza americana eh in Europa eh e questo appunto potrebbe essere un problema anche per il contenimento della Germania che è fondamentalmente il eh segreto mh tra molte virgolette su cui si regge la 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 stessa costruzione europea la Russia dovrebbe fare da ponte eh con con la Francia proprio anche in questo senso eh d'altra parte mh questo desiderio di di riaprire alla Russia per costruire un un nuovo equilibrio continentale direzione in cui va anche la proposta della famosa difesa europea che Macron a più riprese ehm ha tirato fuori in questi anni eh ovvero eh ovvero la un'autonomia anche proprio militare e diciamo l'istituzione di un esercito europeo complementare ma indipendente da quello della Nato ehm ecco di di riaprire alla Russia però in quest'ottica è esattamente il contrario di quanto mh poi vogliono in questo momento c'è anche il trucco eh nel senso lo pagano i tedeschi e lo comandano i francesi eh questo questo lo vorrebbero molto i i francesi in questo momento non so a quanto i tedeschi siano eh disposti tant'è che il riarmo eh che hanno intrapreso poi eh è stato principalmente mh finanziato nell'ambito di programmi però nazionali senza nessun tipo di eh in qualche modo mh proiezione e o dimensione europea. eh ecco come vivono i francesi lo spostamento della centralità della Nato più o meno da loro anche se escono e entrano e la Polonia i baltici perché avevano delle posizioni abbastanza controverse sul peso dei baltici in questa storia. hanno hanno posizioni i francesi hanno delle posizioni appunto se non apertamente ehm ostili in qualche modo non ai baltici in sé ma ehm rispetto a a questo allargamento eh ad est del questo senso dell'Unione Europea ma anche della Nato perché eh fa esattamente il contrario degli interessi dei francesi ovvero in qualche modo eh sposta il baricentro geopolitico sempre più est sempre più lontano da dall'Eliseo fondamentalmente. e sempre più eh sulla ehm sulla Germania di fatto ehm questo ehm appunto spostamento del del baricentro di equilibri europei va a svantaggio della Francia perché eh privilegia in qualche modo mh e eh mette al centro l'asse orientale di crisi in questo senso di di vera crisi eh mentre invece sacrifica eh quello meridionale che è quello mediterraneo che è invece la direzione proprio di eh proiezione eh proiezione della potenza francese mediterraneo verso eh ovviamente eh la direttrice è quella che porta eh all'Africa e si crea in qualche modo eh un'Europa in cui eh la Francia vuoi appunto per ehm in questo caso le sue posizioni più più aperturiste vuoi per il fatto che eh su questi paesi non ha un'immediata presa economica come quella del che ha la Germania ad esempio. e sono anche paesi che hanno più presa americana eh lo dico da mezzo polacco ora la Polonia fa letteralmente baci in bocca con eh con l'America. l'America non ha questo genere di potere sulla Francia. Assolutamente no eh tra l'altro il punto eh centrale eh di di questo discorso è che se l'Europa che Macron immagina un'Europa in qualche modo ehm allargata con appunto a guida francese e in qualche modo compatta e autonoma con il proprio esercito e così via. mh è difficile che possa realizzarsi per una serie di motivi naturalmente che non siamo repilogari ma anche proprio per il fatto che questo tipo di Europa non è l'Europa che i baltici e e gli europei orientali pensano cioè eh è proprio a noi concessioni proprio antipodali in questo questo ciclo di di allargamenti ovvero eh appunto di Polonia stati baltici eh europei eh orientali e il loro ingresso nell'Europa e nella Nato che tra l'altro avviene praticamente in contemporanea ehm è un modo per in qualche modo vincolarsi al al legame transatlantico agli Stati Uniti eh e di di in cambio in qualche modo accettano di sottostare eh anche ai ai meccanismi dell'Unione Europea per la Francia per un paese come la Francia e vale in misura minore probabilmente però vale anche per il resto degli europei occidentali fra cui noi è proprio il contrario ma la Francia nella fattispecie e appunto vuole l'Europa eh in quanto moltiplicatore della propria potenza e quindi come propria sfera di influenza fondamentalmente e accetta su malgrado la Nato ovvero eh l'egemonia in questo caso militare il braccio militare di un altro eh paese in cui ovviamente è nei rapporti ci siamo detti fino adesso eh proprio perché è l'unico eh infatti è la Francia è l'unica che ottiene qualche concessione nel senso fino al duemila otto se non sbaglio tutti e due il comandante in capo e il secondo erano americani ora il secondo è diventato francese che è una libertà insomma che gli americani rendono ai francesi per dire siete importanti solo o meno rispetto a noi eh leggevo una una domanda qui dicono una cosa è certa la Francia ha capito che un paese come la Russia non può essere esclusa dal panorama mondiale a differenza degli americani che vogliono mantenere il loro monopolio di influenza beh non è un discorso così pernicio nel senso che ogni paese cerca di sviluppare la sua sfera di influenza e di portare avanti i suoi interessi quindi i francesi sono alleati i nostri ma questo non vuol dire che all'interno di un'alleanza questi non perseguino i loro interessi qualche volta possono cozzare non si arriva mai allo scontro bellico però per esempio io ho trovato interessante in questo periodo che hanno cominciato a mandare armi i paesi come l'Algeria e io ho il sospetto che sia un certo modo della Francia di fare pressioni su quelle ex colonie o vedremo più in là quel mondo diciamo francofono che loro possono portare a un coinvolgimento verso la guerra per far vedere gli americani primo che fanno qualcosa e secondo che ancora esercitano un certo potere una certa influenza verso questi paesi è una lettura interessante non so forse al momento è anche il marocco è assolutamente sicuramente ecco il mio punto di vista è che il modo che la Francia sta pensando di rimanere in qualche modo influente in questi territori quindi sta sempre attraverso lo strumento militare quindi si esercita attraverso forme sempre più appunto immateriali anche eventualmente come diciamo influenza indiretta del tipo che dicevi tu senz'altro pensando all'Algeria la situazione è anche molto più complessa nel senso che al contempo poi l'Algeria stessa come partner militare ovvero un paese da cui acquista armi ha principalmente la Russia ha partecipato anche delle esercitazioni in congiunte recentemente con la Russia e anche altri paesi centroasiatici insomma è una ci sono vari livelli di complessità anche nei rapporti proprio tra adesso prendiamo l'Algeria come esempio però appunto tra l'Algeria e la Francia l'Algeria non era semplicemente una colonia era proprio parte del territorio metropolitano francese fino all'indipendenza ma i rapporti sono estremamente legati anche su Macron addirittura qualche anno fa all'apice quindi proprio della crisi diplomatica aveva negato che l'Algeria fosse una nazione prima di rendersi indipendente dalla Francia proprio a testimonianza del fatto che appunto lo stesso Macron ma come generale anche percezione dei francesi queste ex colonie o ex appunto territori metropolitani difficilmente saranno mai completamente ex anche perché le diaspore di questi paesi poi appunto a seconda dei punti di vista possiamo chiamarle diaspore o meno comunque sono molto presenti molto anche diciamo cospicue nel territorio proprio nazionale francese e con diciamo anche molti problemi a livello di intenzione non è certo che la Francia riesca ad assimilarli ma probabilmente neanche ad integrarli tutti gli episodi anche da 2015 in poi di terrorismo ma anche in generale il fenomeno della radicalizzazione all'interno del territorio dell'Esagono è uno dei problemi fondamentali da qui e pensavo prima quando mentre parlava Greta al fatto che appunto lei diceva degli Stati Uniti che hanno perso mediamente insomma la propria fede religiosa a livello di singoli cittadini quando invece si concepivano come invece quasi in missione divina e questo è uno dei punti fondamentali di discostamento rispetto alla Francia anche a partire dalle rivoluzioni appunto rispettive francese e americana cioè a partire dalla rivoluzione francese in qualche modo uno dei valori fondamentali che si afferma è proprio quello della laicità dello Stato quindi la Francia è questa anche forma di appunto ecunismo, universalismo senza religione Infatti sono più cattolici gli Stati Uniti cioè oggi avevo guardato un paio di dati 65% si riconosce come cattolico mentre i francesi siamo intorno al 50% quindi addirittura gli americani sono più cattolici dei francesi hanno fatto della laicità anche del qualche modo della poi la matrice è proprio la ribellione anche alle autorità ecclesiastiche nella rivoluzione francese ma in questo caso la laicità viene in qualche modo a costituire una nuova religione civile quasi in qualche modo non da ultimo proprio perché c'è necessità di in qualche modo tenere insieme questo fronte diciamo nazionale così composito così anche etnicamente tra virgolette o comunque insomma nel senso scientifico di etnia così così diverso dal momento in cui non si riesce completamente ad integrarli proprio anche a causa della religione che ovviamente può essere quella islamica ad esempio allora si deve puntare appunto sulla laicità come quasi come religione di stato perché in questi casi ad esempio la religione come quindi può portare alla radicalizzazione ma fondamentalmente è la spia di un'alterità culturale quindi in questo senso sia all'interno del territorio francese che poi al suo esterno quindi direttamente nei territori africani il rapporto tra queste due e anche più naturalmente civiltà non è assolutamente semplice non è assolutamente risolto ecco volevo un po' sentire Greta su questo nella posizione americana attuale no quante sono le frange che vorrebbero spingere contro la presa attuale di Biden e se cambierebbe qualcosa con un'eventuale rielezione di Trump secondo te oppure le politiche di long term diciamo di commitment americano anche rispetto a questo conflitto non vengono così influenzate da un cambio di presidenza perché in Francia è un po' più stabile l'abbiamo visto con un sistema presidenziale puoi governare 15 anni come ha fatto De Gaulle come ha fatto poi quelli che sono venuti dopo che sono durati anche 14 anni con gli americani a parte casi come Roosevelt e noi che hanno fatto tre mandati di solito se ti va bene ne fai due e ora Biden mi sembra un po' vecchio per una rielezione anche se non vedo grandi candidati perché se non sbaglio la sua seconda si è un po' bruciata sulle politiche su alcune esternazioni diciamo a riguardo dei dei cittadini che entravano all'interno dell'America no? Su alcune minoranze di cui lei fa parte tra l'altro ma no sì diciamo che la linea di sulla politica estera in generale segue è continuativa ormai diciamo che ci sono sempre delle tattiche magari differenti che si possono utilizzare però la linea generale in realtà se guardiamo le scelte di politica estera tra Trump e Biden ad esempio non sono state così differenti Trump probabilmente avrebbe seguito la stessa la stessa linea per quel che riguarda ad esempio la guerra la guerra d'Ucraina con le elezioni di midterm in generale quindi abbiamo visto questa ondata rossa che non è arrivata quindi ci si aspettava molto di più questa ondata repubblicana essenzialmente che avrebbe preso un po' il sopravvento su entrambe le camere così non è avvenuto alcuni candidati sostenitori di Trump sono stati eletti non nel numero che sperava lui sicuramente il che ci può già dare un segnale su in realtà quanto quello è un po' che dicevo prima cioè in realtà sembra che proprio il sistema politico americano sia ora così malfunzionante da partorire dei candidati così radicali che non rispecchiano in realtà il sentimento più moderato della popolazione e di questo ne parliamo anche nel numero di Limes nel senso che in realtà poi vediamo delle c'è anche una carta non l'abbiamo ora però in generale che fa vedere proprio tipo come nei vari stati vi siano proprio degli stati a partito unico dove essenzialmente un partito o il repubblicano o il democratico ha preso il sopravvento sulle cariche più importanti sulle istituzioni più importanti del dello stato quindi il governatore poi il parlamento locale e le varie corti eccetera ok questo a testimoniare in realtà di nuovo come oltre c'è ovviamente questa spaccatura politica però ovviamente c'è anche questa come dire diffidenza in generale c'è una non mi ricordavo bene di che cosa parlavamo Mirko scudemi che ho perso il discorso parlavamo del delle politiche di lungo termine se vengono cambiate dal presidente e dalla polarizzazione da quello come dici te in America sembra che si va verso gli estremismi e le voci più moderati stanno praticamente sparendo sì che è un motivo anche per cui che essenzialmente ci fa capire anche come in realtà il popolo americano non è così tanto interessato al discorso politico ecco e in realtà vediamo sempre appunto questo essenzialmente che vengono partoriti dei candidati più radicali questo per tornare al discorso di Trump che Trump ovviamente ha spinto sul sul discorso delle elezioni di metà mandato su dei candidati anche su dei sostenitori insomma alcuni avevano fatto parte anche proprio del dell'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio del 2021 e insomma non sono stati granché eletti quindi questo ci può dare l'idea che all'interno del partito repubblicano c'è una sorta di riflessione interna per magari presentare un prossimo candidato un pochino più presentabile appunto e si parla ad esempio del governatore della Florida De Santis che in realtà all'inizio della sua carriera essenzialmente era un po' pappagallo di Trump però ora sembra un pochino più diventato un pochino più diplomatico però a prescindere da quale sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti resterà la politica come dire la politica continuerà ad allinearsi al sentimento della nazione americana che è quello di un'indisponibilità in realtà ora di impegnarsi troppo all'esterno e prima risolvere i problemi interni e lo vediamo ad esempio anche secondo me dalle ultime notizie che ci arrivano anche dal fronte quindi dalle difficoltà e questo si ricollega anche al discorso francese le difficoltà ad esempio ne abbiamo parlato dell'approvvigionamento delle armi che mancano insomma in territorio ucraino cioè al fatto che essenzialmente gli ucraini lo sappiamo tu su questo ci insegni Mirko storicamente seguono un munizionamento in generale uno stampo come dire sovietico e non quello ovviamente della Nato sono stati addestrati sicuramente ora però gli Stati Uniti si sono resi conto e questo già a partire da settembre che in realtà a questi ucraini servono soprattutto le armi adesso sovietiche di cui c'è grande penuria in giro per il mondo Sì abbiamo tentato di rastrellare tutto quello che c'era in giro non so quanto sia rimasto o quello che è rimasto non è sufficiente a sostenere una guerra per un altro anno o cose del genere onestamente non penso che durerebbero più di sei mesi erano andate a prenderle a Cipro se non mi sbaglio che era tra l'altro sotto storico embargo comunque avevano un fortino essenzialmente di armi sovietiche quindi sono andate a riprenderle pure lì Sì la promessa è sempre la solita voi date l'equipaggiamento sovietico che avete come i slovacchi, i polacchi e noi in cambio vediamo l'equipaggiamento americano non ora ma insomma nel giro di tempo Questo per dire due cose una sul discorso appunto anche francese cioè del fatto che c'è stato mi pare di nuovo a fine settembre questo meeting in generale di tanti paesi una quarantina di paesi del mondo soprattutto europei e dell'Indo-Pacifico proprio chiamato c'è avuto notizia in realtà mi pare i giorni dopo cioè è stato mantenuto un meeting piuttosto segreto tra tutti appunto i responsabili del procurement quindi dell'acquisizione delle varie armi in cui essenzialmente gli americani hanno detto dobbiamo trovare una soluzione perché c'è penuria quindi fate un po' i conti a casa vostra essenzialmente questo è sempre il riferimento a quell'atteggiamento più impositivo che gli americani adesso hanno con gli alleati cioè non è che le vanno a ricamare granché ma gli dicono trovate le armi perché ne abbiamo bisogno non ci interessa se poi Francia e Italia non dicono quanti armi danno o quant'altro però basta che le dati esatto e dall'altra parte mandano il 90% quindi tutto il peso di questa guerra al netto del fatto che la popolazione non ha più così tanto interesse a supportare gli americani diciamo all'estero in modo di mandare le armi non coinvolge direttamente la popolazione che paradossalmente è in più la stessa narrativa di Putin cioè finché era l'esercito professionale a occuparsi della guerra bene o male anche all'interno della Russia la cosa era accettata quando ha cominciato a coinvolgere i cittadini la cosa è cambiata il supporto alla guerra è calato tantissimo anche all'interno della Russia poi si parlava anche del dualismo degli americani cioè che mandano armi ma bene o male danno delle linee rosse agli ucraini linee rosse che loro superano e se ti ricordi in pre-live a me aveva ricordato un pochino l'assicurazione francese e inglese ai polacchi nel senso che non c'era scritto nel trattato che la protezione era anche contro la Russia non si diceva perché comunque questo favoriva i polacchi in realtà spesso me lo chiedono perché quando i tedeschi hanno invaso insieme poi ai russi la Polonia Francia e Inghilterra non hanno dichiarato guerra alla Russia perché quel trattato difendeva la Polonia solo contro la Germania questa ambiguità è utile a certi paesi perché lascia comunque l'altro sul non so quindi meglio non rischiare e ovviamente questa è un'ambiguità che soltanto chi ha un margine di manovra può adottare ovviamente non sono gli ucraini sono tutti gli americani in questo senso e quindi abbiamo parlato anche delle varie dichiarazioni più o meno ambigue che lasciano capire agli ucraini o meno se gli Stati Uniti ad esempio sosterranno la volontà ucraina di prendersi la Crimea probabilmente la risposta è no però intanto ci sono state diverse dichiarazioni di generali come era Benoggi quindi era in pensione che magari sono più io vedo due narrative cozzanti Greta una dove dicono che Zelensky è un po' pazzo dall'altro che non può fare nulla a meno che gli americani danno il loro benestare poi però vedi che fanno attacchi in profondità dalla Russia quindi secondo me la verità sta nel mezzo cioè è vero che gli americani sono l'azionista di maggioranza e quindi è palese che se ti danno il 90% di quello che utilizzi beh qualcosa da dire l'avranno ma non è neanche vero che gli ucraini non hanno un certo tasso di indipendenza strategica anche contro il pensiero americano Sì io credo che gli ucraini siano in realtà così tanto un po' spalle al muro perché ovviamente si tratta tanto di una guerra che si fa sul proprio territorio che si permettono anche di osare essenzialmente poi davvero qua senza avere grande potere negoziare dalla loro parte perché lo sappiamo se gli americani chiudono i rubinetti chiudono i rubinetti e gli ucraini possono anche continuare insomma a andare con Itero-Borona a difesa territoriale continuare ad addestrati però se finiscono le armi però dall'altra parte gli ucraini hanno bisogno comunque di osare e anche di mantenere una loro certa narrazione o narrativa nel senso il caso del missile polacco quello ad esempio cioè del missile in Polonia quello ad esempio ha rappresentato un motivo di come dire di fastidio da parte degli americani che hanno palesemente quasi non insultato gli ucraini ma ha detto non state a negare l'evidenza diamo comunque la colpa ai russi perché era un giorno di attacco no Mrs. Day la colpa alla base ai russi poi che fosse un missile russo ucraino però io ho visto subito la volontà di Stoltenberg e anche degli americani di dire aspettate prima di fare dichiarazioni strane facciamo una commissione e controlliamo questo un po' per tamponare i polacchi e un po' per tamponare l'entusiasmo di Zelensky che poi si è trasformato anche in imbarazzo mi ricordo col professor Breccia si parlò di farlo di frustrazione si era subito gettato sull'ipotesi russa perché ovviamente portava col suo molino quindi c'è una certa accensione anche nel evitare lo scontro o la volontà non voler portare lo scontro fino a quel livello finché un coinvolgimento finanziario o di armamenti è una cosa avere un coinvolgimento diretto di un paese della Nato è forse un peso che gli americani non si sentono di voler supportare perché significherebbe un coinvolgimento diretto anche loro no sì e poi soprattutto l'abbiamo detto prima avete spiegato bene voi cioè la Polonia è comunque adesso un bastione fondamentale per gli americani quindi c'è nel senso i calcoli che gli americani farebbero rispetto a cioè il calcolo di sensibilità che gli americani hanno ora verso la Polonia è diverso dalla sensibilità che possono avere o non avere rispetto agli ucraini e ora non voglio dire che gli americani andrebbero a morire per Varsavia però sicuramente c'è un legame molto più più stretto e basta vedere il numero di basi militari della Nato in generale scusami americane proprio in Polonia cioè mi pare che tra insomma dopo quelle tedesche Polonia e Italia siano più o meno allo stesso numero di soldati americani quindi si parla di oltre una decina di migliaia di soldati americani in territorio polacco e tra l'altro Greta scusa ti interrompo solo un attimo in Francia invece non ci sono basi militari americane tanto per dare la misura della Nato rapporto esatto si ricollega benissimo al discorso poi come accennavi tu prima Agnese della Forza de Frappe che hanno soltanto i francesi in maniera attiva da quel punto di vista quindi sì insomma la situazione è multidimensionale sicuramente da questo punto di vista l'unica cosa che vorrei rispetto poi per chiudere davvero il discorso francese un attimo anche non smorzare insomma tutto quello che ci siamo detti però anche ricordiamoci ovviamente le gerarchie di base nel senso la Francia Agnese ce lo può spiegare meglio di me comunque resta una media potenza che come dire ha tante belleità e l'abbiamo spiegata qui tantissimo ha delle grandi capacità anche soltanto in termini di narrazione e di pensiero di concezione di se stessa che è fondamentale perché poi forma una pedagogia quindi forma una cultura forma una vivacità anche nel popolo e poi dopo nella elite però e di nuovo qui Agnese forse ci può raccontare qualcosa cioè sono i francesi quasi che come dire anche nella loro elite hanno gli americani dentro a differenza del contrario non è contrario è Macron che deve fare dei calcoli interni per dimensionare le na e magari togliere come dire i gerarchi comunque sia i leader diplomatici più americanisti o filoamericani e non il contrario quindi bisogna bisogna ricordarsi un po' le gerarchie di base e quindi il fatto che comunque la Francia quando poi dopo è ora di di nuovo come dicevamo prima fornire approvvigionamenti o comunque sia rispondere ai diktat americani ha bisogno di restare attaccata fa il minimo però fa il minimo di quello che potrebbe risponde a questo e posso la parola Agnese dice ma non è ovvio che la Francia abbia un status diverso in quanto potenza nucleare poi avevo letto anche perché non ha perso la seconda guerra mondiale parliamone perché la narrativa francese che il mondo di Vichy non esiste cioè De Gaulle è riuscita a non parlare del periodo di Vichy e passare da vincitori senza dover pagare pedaggio è una cosa che in Francia la narrativa della resistenza è molto esagerata molto esagerata proprio per cambiare queste cose velocissimo Anneta perché è un aneddoto che ci aveva raccontato il direttore Lucio Caracciolo di un generale proprio perché parlava appunto della seconda guerra mondiale e quando tipo nel 1945 la Berlino era stata liberata e c'era appunto questo generale Philippe Leclerc che si trovava a Berlino ovviamente loro erano stati come dire appunto equipaggiati anche con divise americane e incontrano essenzialmente un un plotone diciamo così di SS formato in realtà da Belgi Francesi e comunque sia che comunque sposavano la cosa di Hitler o comunque sia nel senso stavano combattendo con i tedeschi e da quel punto di vista lì c'è Leclerc che chiede li vede come dei traditori chiede cosa ci fate con queste divise tedesche e uno di quelli risponde a Leclerc che tu cosa ci fai con una divisa americana questo per confermare esattamente quello che diceva prima Agnese cioè dei due pilastri poi della strategia francese l'antiamericanismo da un lato quindi cercare di non stare sotto troppo sotto l'impero americano se vogliamo e poi ovviamente il pilastro cioè facciamo tutto in funzione antidedesca cioè allegiamoci magari pure con la Russia o comunque sia convergiamo diplomaticamente anche con la Russia in funzione antidedesca questo è un piccolo aneddoto per poi appunto ricordarci il discorso dei pilastri insomma della strategia francese vai Agni scusami no ma figurati tanto occhioso solo su quello che accennavi assolutamente la diciamo l'amicizia con quel rapporto di alleanza ha senso chiamarlo così solo se ricordiamo appunto cos'è l'alleanza per gli Stati Uniti c'è un rapporto fondamentalmente di di sudditanza fondamentalmente appunto quindi con la Francia in minimo questa cosa è smorzata per tutti i motivi che abbiamo detto finora dall'altra parte però come giustamente ricordavi tu c'è anche appunto invece poi la Francia che si deve in qualche modo quasi tutelare no dalla dalla penetrazione anche di questo anche filo americanismo ovviamente più sottiti nel senso che il sentimento poi preponderante è questa necessità invece poi di smarcarsi questo senso anche di superiorità rispetto agli americani e così via però sono poi due culture talmente anche diciamo vicine per Natali e costantemente poi in qualche modo che si richiamano costantemente nel corso delle rispettive traiettorie storiche che appunto anche adesso in Francia il problema di un eccessivo diciamo di un eccessivo quasi atlantismo comunque di un'impostazione eccessivamente americana è sentito in maniera talmente intima fin da toccare proprio appunto la struttura statale diciamo profonda appunto quello che poi lo stesso Macron tra l'altro facendo eco alle dichiarazioni di Trump ha chiamato stato profondo e questa è anche proprio l'uso di questo termine già in qualche modo poi testimonia del fatto che si sia che abbia attecchito in qualche modo il germe di questo americanismo Macron fondamentalmente chiude l'ENA che è la scuola di formazione per le carriere pubbliche dove lui stesso si è formato in realtà formalmente non l'ha chiusa l'ha riformata tuttora in funzione ma insomma secondo standard diversi e così via per lo stesso motivo per cui proprio a primavera scorsa ha indetto una riforma del corpo diplomatico francese questa forse ma tutte e due insomma sono due veramente misure molto drastiche perché in entrambi i casi vanno a toccare proprio il diciamo il corpo fisico dell'irradiamento della potenza francese che appunto sono gli apparati fondamentalmente gli apparati statali diplomatici per quanto riguarda la potenza all'estero con la riforma della della diplomazia vuole fondamentalmente o almeno questo di questo lo accusano i suoi detrattori tra cui ovviamente la maggior parte dei diplomatici stessi vorrebbe abolire fondamentalmente la figura del diplomatico di professione che invece è una carriera proprio d'eccellenza di punta della insomma del paese della nazione francese il motivo è proprio che avrebbe riscontrato appunto Macron un eccessivo un'eccessiva compenetrazione di ideologie in qualche modo filoamericane anche per come si si sono strutturate al loro interno queste questi dipartimenti delle diciamo delle varie carriere pubbliche ovviamente questo a parte che è una ferita gigantesca ma soprattutto ha dato luogo a uno degli episodi più pittoreschi forse diciamo almeno in questo ambito degli ultimi tempi ovvero uno sciopero dei diplomatici davanti al ministro degli esseri francesi cioè i diplomatici in sciopero ovviamente non si sono anzi c'era stato un unico precedente nel 2003 sempre in Francia però soprattutto per un diplomatico francese in stato in cui appunto poi la diplomazia l'arte della anche proprio appunto carriera pubblica della formazione pubblica e così via è così importante poi appunto è sempre a partire da non è solo questo però è anche in molta parte a partire da questo rapporto così conflittuale comunque con la stessa America che poi appunto dà luogo a episodi di di questo tipo allora volevo da tutte e due sapere come hanno vissuto gli americani e i francesi diciamo le le trovate della pelosi ci spostiamo in Indo-Pacifico ma io qual era la lettura francese e la lettura americana proprio americano in ottica di fratture e francese nel senso quanto i francesi sono d'accordo rispetto alle politiche americane dall'altra parte Indo-Pacifico dico solo due cose poi lascio la parola perché erano stati invitati anche loro a far parte comunque del blocco di contenimento anche i tedeschi anche se ci hanno di marina ne hanno veramente poca sì gli americani cioè prima forse di questa guerra appunto quindi prima del 24 febbraio avevano in mente anche per l'Europa una ripartizione no quasi direi precisa cioè gli europei orientali a contenimento della Russia gli europei occidentali fra cui appunto francesi tedeschi noi italiani appunto invece a contenire in qualche modo a qui appaltare il contenimento nell'Indo-Pacifico ora la Francia sicuramente nell'Indo-Pacifico ci va da potenza residente cioè questa è la sua lettura perché grazie alle sue terrile d'oltremare fondamentalmente non va lì su un vito degli Stati Uniti in questo ordine diciamo del discorso c'è anche in quel teatro una competizione in qualche modo è ovvio che si tratta sempre di fondo quantomeno c'è la comune intenzione di appunto avversare e contenere la Cina tuttavia anche solo se pensiamo alla controversia che c'è stata nel 2021 sulla partita di sottomarini e che poi è stato il caso AUKUS con un acronimo cioè gli Stati Uniti hanno tolto praticamente alla Francia la partita di sottomarini che doveva vendere all'Australia e hanno in qualche modo rifornito essi stessi gli Stati Uniti l'Australia di sottomarini a propulsione nucleare cosa che la Francia non poteva dargli anche questo ovviamente gli Stati Uniti l'hanno fatto perché era prioritario in quel caso dotare l'Australia di una tecnologia militare che potesse effettivamente essere più utile al contenimento della Cina i francesi non potevano dargliela ma comunque già da lì diciamo è stato proprio evidente innanzitutto lo smarco un po' la pugnalata alle spalle come poi è stata definita e il fatto che gli americani tutto sommato è un discorso che vale anche oggi rispetto agli europei si sta parlando di guerra commerciale in questi ultimi tempi comunque gli americani quando si tratta di interessi così vitali così strategici non sono particolarmente interessati a vincolarsi diciamo a chissà quale patto di amicizia la Francia vuole comunque coltivare i propri interessi nell'Indo-Pacifico anche attraverso la sua marina e quindi andandoci fisicamente ma perché più che diciamo per aiutare in qualche modo essere di aiuta l'America proprio perché di essa stessa appunto l'Indo-Pacifico come una sua priorità perché come l'America ha in qualche modo una visione di sicurezza globale cioè quando pensa alla propria sicurezza non pensa solo al proprio intorno strategico la Francia ma pensa direttamente appunto il mondo in scala mondiale in questo senso la Cina stessa è un rivale sistemico per la Francia in questo si accorda con anche la prospettiva statunitense questo non vuol dire che non ci siano però frizioni anche come già ci sono state Greta anche sul viaggio in Georgia perché c'è quello che ha fatto più scalpore ma c'è anche quello minore in Georgia cioè come è stato vissuto degli americani internamente ma allora come dicevo prima di base gli americani continuano soprattutto in questa fase a non interessarsi particolarmente di queste visite così diplomatiche proprio perché di base seguono poco con la politica quindi ha più risalto da noi sì sicuramente c'è più risalto da noi poi dopo è chiaro in quel caso stavamo parlando con la visita a Taiwan di una visita storica se vogliamo perché parliamo poi di un quadrante veramente strategico in quel caso sì per gli Stati Uniti quindi di base a livello di elite l'abbiamo visto quindi proprio degli apparati del potere statunitense c'erano state anche diversi fastidi perché alla fine non si è capito bene se questa visita Biden prima di tutto la sapesse in anticipo ma poi se fosse davvero d'accordo in realtà alcune se ci ricordiamo alcuni dialoghi o comunque sia alcune battute facevano capire di una come dire delega di responsabilità o perlomeno le parole della Casa Bianca erano più in senso di de-responsabilizzazione cioè è la speaker della Camera e fa le sue scelte e si prende le sue responsabilità scusa in Armenia non Giorgio e si prende le sue responsabilità detto questo per quel che riguarda da quel punto di vista io credo che fosse una scelta più da valutare ecco dal punto di vista diplomatico e più che dal punto di vista della popolazione di nuovo perché in realtà il il sentiere della collettività americana adesso cercherebbe di evitare qualsivoglia onestamente mal di pancia e anche rischio non che davvero ci fosse un reale rischio soprattutto per il territorio americano figurarsi probabilmente nemmeno per l'assista Pelosi però insomma queste visite secondo me sono da considerare come anche se vogliamo non so se niente d'accordo ma anche una sorta di quasi eretaggio e ultime colpe di coda colpi di coda di una invadenza se vogliamo di un'arroganza tutta americana di andare a insomma a mangiare nel piatto degli altri o comunque sia a rompere le uova nel paniere in una situazione che comunque è delicata e critica e ti stai confrontando con il tuo sfidante numero uno che già tra l'altro in quel quadrante ha tutti i suoi problemi perché di base non può uscire di casa e ha dei problemi interni socio-economici gestione del covid eccetera quindi di certo i cinesi se lo sarebbero evitati di volare attorno allo spazio aereo di difesa di identificazione insomma di difesa aerea di Taiwan e anche di lanciare le varie esercitazioni che sono partite i giorni i giorni successivi alla visita della Pelosi nelle stesse ore e quindi io onestamente interpreto una scelta del genere come ecco un colpo di coda di una potenza che comunque magari voleva anche testimoniare simboleggiare il fatto che a differenza dell'Ucraina proprio quello è un quadrante su cui gli americani non toglieranno mai gli occhi e che continueranno scientemente a monitorare e a controllare anche proprio per evitare una qualsivoglia come dire spinta come dire dal punto di vista cinese è reunionista ma Taiwan sicuramente rappresenta il quadrante il teatro in generale più strategico su cui gli americani continueranno ad avere occhi e su cui ovviamente quindi continueranno ad avere presa anche da un punto di vista semplicemente di narrazione perché poi lo sappiamo abbiamo visto le dichiarazioni successive di quei giorni anche della stessa presidente taiwanese da questo punto di vista dobbiamo secondo me è interessante questo ha a che fare anche con la carta sull'Occidente visto dagli Stati Uniti gli Stati Uniti non si pensano come dire impero e in generale non pensano alla propria sfera di influenza in termini geografici cioè quello che è considerato come l'Occidente per gli Stati Uniti non ha a che fare soltanto con l'Unione Europea o in generale il Canada no proprio per questa missione universalista per questo ecumenismo se vogliamo degli Stati Uniti e gli Stati Uniti portano avanti un soft power come dicevamo prima che ha a che fare quindi proprio con delle precise narrazioni quindi l'esportazione di democrazia quindi i diritti umani ed è anche con questi tipi di narrazioni che poi in qualche modo tiene legato a sé e instaura legami con delle altre potenze medie potenze o comunque sia potenza anche in difficoltà alcuni esempi di quali possono essere ad esempio appunto Israele oppure il Giappone oppure forse la Corea del Sud e mi chiedo mi domando in questo caso anche Taiwan Taiwan sarebbe veramente difficile geograficamente mentalmente forse dipingerla come una potenza occidentale forse infatti in quella carta non l'abbiamo nemmeno inserita però resta che la narrazione americana come dire Taiwan si è fatto assolutamente assolutamente abbracciato completamente la narrazione americana sulla democrazia e quando leggiamo i giorni occidente si può diventare di fatto cioè è talmente uno status immateriale che appunto nelle carte che vedevamo prima cioè è completamente non geografico è quasi sentimentale però basta abbracciare più una questione di diritti di stile di vita che non cioè può essere benissimo musulmano ma adottare la democrazia nel senso è quello che poi ti rende accomunabile all'occidente certo poi però parlando poi da un punto di vista più strategico e geopolitico e quindi parlando di collettività quindi di aggregati più che di solo sentimento del singolo quello poi dopo ha effettivamente una valenza più strategica in qualche modo perché poi gli americani ovviamente Taiwan aveva il bisogno di essere identificato nella sfera di influenza occidentale o come un paese che si riconosce nei valori occidentali per avere una vicinanza e per avere una certa protezione certo più sperare in questa protezione che chissà se arriverà ma no certo che è già arrivata però non lo si dice però sì ecco insomma questo per dire poi anche come in generale la missione ordinatrice degli americani spazia il lungo e il largo e arriva davvero all'altro mondo ecco ecco considerazioni finali credete che Francia e America non cambieranno la narrativa rimarranno esattamente sulle loro posizioni attuali o secondo voi avete degli elementi per dire che qualcosa cambierà rispetto alla guerra in Ucraina sì cioè voi avete dei sentori di cambiamento la crisi energetica all'interno della Francia che non è direttamente imputabile alla guerra ha dei problemi loro logistici eccetera li faranno vacillare di più gli americani faranno più pressione o bene o male secondo voi nel breve periodo perché poi non è che chiedo predizioni di lungo termine ma nei prossimi 3-6 mesi più o meno tutto rimarrà su queste linee ma io risponderei brevemente in due battute cioè la prima è che tendenzialmente finché sarà Washington a sostenere l'Ucraina la Francia non si potrà smarcare realisticamente da questa posizione cioè su questo non c'è dubbio che si può appunto contrattare quante armi o quanto sostegno adesso per esempio proprio di pochi giorni fa dell'altro ieri a Parigi si è tenuta una conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina la mattina si sono raccolti dei fondi per permettere appunto agli ucraini di fondamentalmente sopravvivere all'inverno visti i continui attacchi sulle infrastrutture civili da parte dei russi il pomeriggio sempre a Parigi nello stesso giorno si sono riunite le imprese francesi che tra l'altro è il primo datore di lavoro straniero in Ucraina per mettersi in primo piano nella gara per la ricostruzione dell'Ucraina e quindi per appalti contratti e così via questo per esempio potrebbe essere letto tornando alla tua domanda come una sorta di cambio di posizione cioè prima non mandiamo nessun tipo di arma siamo in qualche modo un po' reticenti l'apertura alla Russia adesso invece mandiamo degli aiuti sostanziosi sia in termini infrastrutturali che economici eccetera in realtà la strategia della Francia rimane la stessa cioè il suo obiettivo in questo contesto è proprio proporsi come forza di equilibrio come prima potenza mediatrice possiamo dire ma già preparando gli assetti del dopoguerra si sta già iniziando a parlare di ricostruzione e ovviamente la prospettiva francese è quella del negoziato quindi cerca comunque di adattare anche in questo caso l'andamento della guerra la postura americana ai propri interessi alle proprie volontà come ha fatto appunto nel caso di queste quindi francesi si possono aspettare una bella fetta insomma della ricostruzione dell'Ucraina è un modo per gli americani di dirgli se vi impegnate sarete anche premiate di appaltare assolutamente a loro volta i francesi se lo giudicano per le proprie aziende ma di fatto anche per la Francia a livello di status quasi simbolico intestarsi la ricostruzione dell'Ucraina confermerebbe sicuramente appunto il suo ruolo centrale in Europa ma proprio anche come potenza di equilibrio appunto come ruolo di mediazione che è quello che Macron poi cerca di appunto intestarsi dall'inizio del conflitto e anche da prima con risultati quantomeno discutibili o comunque appunto diciamo interpretabili però la direzione è sempre la stessa quindi si chiuderei su questo cioè finché ci sarà luce verde da parte degli Stati Uniti il sostegno della Francia e anche della Germania per inciso non mancherà Greta voi non ci fate caso io devo fare la mappa perché intanto è uscita la nuova versione secondo perché se non le tiro fuori la mappa almeno una volta nella live non sono contento così vedo l'aggiornamento e dei fronti da qui ai prossimi sei mesi fare previsioni è sempre un azzardo però quello che stiamo vedendo in generale è che poi Mirko tu ce lo sai spiegare meglio di noi sul campo va avanti una guerra di logoramento dal punto di vista però più diplomatico si è cominciata a sviluppare sotto traccia all'inizio ma ormai già da un mese perlomeno alcuni sicuramente alcuni colloqui di pace o di cessare il fuoco più sotterranei a partire sicuramente dalla visita di Lavrov all'ONU e poi quindi si è fermato tra Washington e New York non una settimana ma almeno cinque giorni e quindi lì c'è stata già una prima anche dichiarazione pubblica del fatto che effettivamente questi colloqui avevano cominciato ad esservi poi lo stiamo vedendo in realtà questo è stato uno dei canali ci sono stati degli incontri segreti fra i vari rappresentanti della CIA quindi Burns e poi il suo omologo ci sono stati incontri o comunque sia dialoghi fra Gerasimov e Milley ci sono stati dialoghi fra Austin e Narishkin se non mi sbaglio comunque insomma è chiaro che vanno avanti dei dialoghi sotterranei di cui ad esempio lo scambio di prigionieri di qualche giorno fa è un altro esempio del fatto che qualcosa comincia a funzionare anche tra l'altro perché lo scambio di prigionieri è andato insomma più o meno bene e questo significa pure che in qualche modo entrambe le parti cominciano in qualche modo anche ad arrivare a quel tipo di compromesso nel senso su questioni laterali collaterali e marginali se vogliamo poi ricordiamolo i tempi di un negoziato tanto più su un eventuale soltanto cessare fuoco quindi nemmeno pace saranno secondo me lunghissimi perché entrambe le parti si porranno in maniera molto conflittuale con l'altra in termini del tipo richiedo il massimo che posso e ovviamente quindi le due posizioni saranno inconciliabili all'inizio poi bisognerà vedere come reagiranno l'una all'altra se vabbè facciamo saltare tutto oppure non possiamo permetterci di far saltare tutto essenzialmente io credo che per gli ucraini è sicuramente rassicurante no? che già si pensi al dopo già si comincia a dare forma a questa cosa è vero però io credo anche a contempo che ci saranno dei momenti di fortissimo attrito in realtà fra ucraini e americani proprio anche durante ovviamente i colloqui di pace perché lì dovranno verranno necessariamente al pettine tutte quelle ambiguità che gli americani hanno mantenuto e continuano a mantenere in questi mesi quindi il discorso della Crimea gli ucraini non hanno intenzione di arretrare su questo passaggio invece è il passaggio fondamentale in cui secondo me potrebbe venire fuori anche sul Donbass Greta io non so quanto gli convenga riprenderselo in toto considerato che che era ucraino se n'è andato quelli che sono rimasti sono russi russofoni russofoni eccetera declinatelo come più vi piace rincorporarli sarebbe molto difficile rischi un'altra guerra civile poi tra l'altro è da considerarsi come chi si vuole effettivamente riprendere perché poi dopo lì diventa davvero un gioco a massacro perché la popolazione se n'è andata e il territorio è martoriato quindi a livello di infrastrutture sono sono invelleniti anche gli animi di quelli che sono rimasti quindi è difficile sono invelleniti gli animi anche sì io quando sono rimasti lì ce l'hanno molto col governo di Kiev quindi guarda io Mirko quando sono stata io sono stata a Severodonetsk pochi giorni prima che che gli russi erano già nei quartieri nord-est Severodonetsk era di oltre 100.000 abitanti quando sono stata io c'erano soltanto rimasti 10.000 residenti e loro mi diversi concordo confermo perlomeno erano erano molto arrabbiati con il governo ucraino si sentivano abbandonati vuoi perché non riuscivano più a ritirare del denaro con tante quindi a prendere la pensione perché la pensione era stata effettivamente anche interrotta da lì a tre mesi passati gli stessi militari in quel frangente in realtà nelle settimane prima del nei giorni prima della presa di Severodonetsk si sentivano proprio abbandonati cioè mandati a un po' a morire come carne da macello però lì effettivamente il sentire della popolazione era molto ibrido nel senso che mi dicevano e ho diverse testimonianze effettivamente si arrivano abituati da otto anni a stare dentro il fuoco se arrivano gli ucraini e mettono una bandiera ucraina nel municipio sarò ucraino e se lo fanno i russi sarò russo in quel caso è più di arrendevolezza arrendevolezza del tipo cioè basta che smettono pur che finisca pur che finisca certo poi ovviamente non biasimabile al contrario molto molto umana come cosa e a testimoniare come poi dopo vada oltre in realtà l'appartenenza filo russo filo ucraina di un territorio così martoriato la gente vuole la normalità a un certo punto per forza diventa anche sì 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 anche la civiltà non la civiltà ovviamente però cioè il senso di cittadinanza diventa molto ibrido e fluido ecco questo sì sul discorso di cosa parlavamo sicuramente mi sa del Agnese tu dicevi del della non so se avevi accennato avevi accennato all'ultima domanda di Mirko scusami mi sono persa di nuovo penso se avessi chiesto solo le previsioni se le posizioni rimarranno quelle al netto se c'è qualche spiraglio di un cambiamento eh beh di nuovo scusami sì sul discorso dei colloqui penso semplicemente che prenderanno tanto tanto tempo e quindi che di base anche semplicemente per comprendere i propri mesi sarà fondamentale ricordarsi il margine di manovra dell'uno e il margine di manovra dell'altro resta secondo me che gli americani hanno margine di manovra ma anche fra Zelensky e Putin non c'è quasi margine nessuno vuole molare neanche un centimetro sono sono d'accordissimo lì poi dopo non so davvero non so davvero come come sarà descrivere anche il il dopo pace cioè nel senso il post negoziati anche proprio internamente a livello di lotta politica interna soprattutto ovviamente al territorio ucraino perché ovviamente tutte le purga ad esempio che sono state fatte in questi mesi con la legge marziale cioè probabilmente ne diamo più notizia a noi che in Ucraina però poi devo magari anche lì qualche nodo al petto dopo ci saranno tutte le considerazioni che dovranno fare all'interno del loro paese insomma autocritica cosa che non siamo riusciti nemmeno a fare noi no abbiamo mai avuto un processo di Nuremberg e quindi meglio seppellire sotto il tappeto certe cose hanno già tanto da preoccupare devono ricostruire prima di parlare della storia interna passeranno 20 anni è roba da storia però come dicevamo è in questa fase secondo me immagino che sarà d'accordo che la Francia può giocare un ruolo maggiore cioè prima con le telefonate di Macron a Putin appena scoppiata era troppo presto era assolutamente preliminare infatti Macron è stato schernito diverse volte proprio per gli ucraini erano aveva stizzito Zelensky no no eh sì quando sono stata lì mi dicevano proprio che lo chiamavano tipo il miglior amico di Putin gli ucraini che intervistavo oppure tipo Puppet mi dicevano non lo sappiamo ormai lo chiamavano pure per la buonanotte quindi non erano ovviamente nemmeno molto esattamente quello che sta succedendo non volevi dare un qualcosa sul futuro ma visto che gli ucraini hanno tale considerazione dei francesi come prenderanno la ricostruzione con un grande coinvolgimento francese ma su questo io direi bene cioè nel senso che sta facendo la Francia esattamente quello che per cui gli ucraini hanno insistito fino a questo momento credo anche per il discorso che faceva Greta che ci sia poca anche almeno in questi casi poi non si tratta di Russia o non Russia ma quando si tratta di paesi occidentali che ti vengono in aiuto non c'è molto da chiedersi non so come dirti a cavallo nato non si guarda in bocca ma sì e poi appunto come accennavo la Francia era già presente prima della guerra in Ucraina a livello di imprese attività compagnie e così via appunto era il primo datore di lavoro straniero quindi è una presenza a cui sono già abituati e anzi quasi si aspettavano un contributo di questo tipo proprio dalla Francia per questo tipo di familiarità pregressa sicuramente da questo punto di vista la Francia come già accennavate sta approfittando proprio di questo momento americano cioè la visita di Macron in America va proprio in questa direzione a differenza di quanto prima cioè prima in qualche modo le telefonate su cui poi questa gigantesca opera di mediazione è stata addirittura tratto un documentario era in qualche modo quasi una postura molto diciamo estroversa ma proprio molto vistosa probabilmente il vero cambio di passo lo dà appunto un colloquio di questo tipo con con Biden in seguito al quale probabilmente Macron ha ricevuto proprio luce verde rispetto a questa apertura alla possibilità di intestarsi in parte e ovviamente dopo gli americani stessi che comunque sono molto coinvolti però il processo di ricostruzione dell'Ucraina e ripeto questo non viola in nessun modo la strategia francese a riguardo che in qualche modo nella strategia francese riescono a convivere anche questi due imperativi cioè in qualche modo continuare ad aiutare l'Ucraina nell'immediato che sia sopravvivere all'inverno o ricostruirsi nei prossimi anni perché di fatto nazione paese aggredito e quindi vittima in qualche modo dall'altra parte in un futuro post bellico e ancora di là da venire secondo modalità che appunto non possiamo divinare adesso aprire comunque la Russia ma le due cose non sono in contraddizione per Macron che è stato definito proprio il presidente allo stesso tempo che è un'espressione che lui usa spesso e che però invece purtroppo diciamo più che per questo mi preoccuperei del fatto che invece molte perplessità le destino in altri paesi come innanzitutto gli europei orientali che non sono molto diciamo non sono molto persuasi da questi nuovi progetti di aiuto francese all'Ucraina ma anche lo stesso Putin fino a un certo punto anche durante il giro di telefonate quel periodo che parlavamo un po' più spesso si può affidare di Macron o comunque della Francia di Macron fino a un certo punto perché dietro ci sono sempre gli Stati Uniti per quanto lui se ne voglia smarcare direi che abbiamo fatto un bel un bel giro siamo finiti a parlare dalle colonie francesi fino ai giri della Pelosi io ringrazio tantissimo Agnese e Greda per queste due ore abbiamo detto un'ora e mezzo ma poi sai parlando si tende ad andare oltre grazie a te Mirko e soprattutto ho visto tanti commenti vabbè ci sono i soliti rompiscatoli ma ci sono tanti che hanno visto che siete molto preparate perché ovviamente nel mondo secondo me della geopolitica c'è un eccesso di maschi maschilista e quindi vedere insomma che emergono le ragazze belle e brave fa sempre piacere e meritano spazio quindi grazie a voi grazie mille alla prossima e alla prossima noi ci becchiamo sabato con un update sulla guerra e poi vedremo buonanotte a tutti buonanotte grazie